succede, che in classe magari aprono il registro sulla lavagna, sulla limba e quindi io sono proprio lì che vedo il numerello 10, il vecchio nome che io però non voglio più vedere appunto. La cosa più brutta appunto è il registro perché solitamente poi succede che in classe magari aprono il registro sulla lavagna, sulla limba e quindi io sono proprio lì che vedo il numerello 10, il vecchio nome che io però non voglio più vedere appunto. C'è la questione del bagno, finché non c'è la carriera alias, io devo andare all'interno di quello delle ragazze, poi ovviamente non è che ci stanno dei controllori davanti al bagno e mi dicono no guarda non lo puoi fare, però io ho sempre un po' paura anche di andare ad incontrare persone che magari insomma non sono proprio tanto aperte su questi temi, io peraltro peso un fuscello, se qualcuno mi volesse mai fare qualcosa ci mette un istante proprio. Adesso con l'occupazione appunto ci sono andato proprio ieri per la prima volta all'interno del bagno dei maschi, adesso appena finiamo qui vado a fare la pipì all'interno del bagno dei maschi, sono molto emozionato ecco. Il fatto che Andresi sia sentito a proprio agio per la prima volta di andare nel bagno dei maschi durante la nostra occupazione fa capire quanto questa occupazione stia funzionando, era proprio questo il nostro obiettivo. Noi abbiamo iniziato a lavorare all'approvazione delle carriere Alias più di un anno fa, dopo un anno i risultati non sono moltissimi, circa una decina di scuole nel Lazio sono riusciti a farla approvare, fuori dal Lazio molto poco, qualcosa in Veneto, ma è chiaro che la maggior parte delle scuole continua a non usufruirne e questo mette in difficoltà decine, centinaia di persone che tutti i giorni devono vedersi sul registro nei compiti in classe un nome che non gli appartiene più, che non gli rappresenta. C'è un certificato che attesta che io ho un problema con il corpo con cui sono nato, ho un problema con il nome che mi è stato assegnato e che quindi di conseguenza c'è bisogno di accortezze, di piccole cose e poi alla fin fine basta veramente poco per riuscire ad aiutare e a far star bene una persona trans e che appunto bisogna cambiare il nome sul registro, bisogna chiamare al maschile o al femminile, insomma dipende sempre dal caso. Mi sono ritrovato con un professore esse che hanno cercato di farmi cambiare idea, con professori che davanti all'intera classe durante una discussione proprio sulla tematica della transessualità mi ha esplicitamente detto sei troppo femminile e è per questo che io non ti do del maschile che come si può immaginare insomma per un ragazzo trans questa non è una pugnelata, è proprio una bomba, cioè una granata. Il messaggio è molto semplice, io sono un essere umano esattamente come lo sono loro, poi ok sono nato in un corpo diverso, mi trucco in una maniera più strana, mi vesto in una maniera strana, sì, sono stato creato alla stessa maniera in cui sono stati creati loro per cui non capisco perché ci debba essere una barriera tra quello che sono io e quello che sono loro, non capisco perché io debba essere additato, non capisco perché mi debbano urlare frocio nel momento in cui ho semplicemente un rossetto e non capisco peraltro perché mi debbano sputare addosso nel mentre che sto con il mio partner, cioè la mia domanda è proprio perché, non è tanto un messaggio, non è tanto un qualcosa di concreto, io ho delle serie domande, io non capisco perché ci sia tutto questo, tutto questo odio, tutta questa incomprensione, sono qui, esisto, occupo un banco, occupo una sedia, occupo un posto sull'autobus e io ci sto, perché devo scusarmi, perché devo chiedere permesso, perché devo aspettare che qualcuno accetti che io sto seduto lì, io ce sto, punto, so affari loro poi se mi accettano o non mi accettano. Grazie.